Col fallo di fuori? Con il fallo di fuori. Grazie, ha fatto fallo. Tutto nudo. Corello, questa che c'ha. Ma di come si è drogato? Ma va? Dicevano. Ma va? Sì, sì. No, io pensavo che volessero... C'aveva caldo? Sono i sette e mezzo del mattino di sabato. C'aveva caldo. Tutto ciò è accaduto accanto al Q5 di Silvia Escort. Sarà stato il Q5 di Silvia Escort il motivo? Tutto ciò per una multa? Un'ambulanza? Due macchine della polizia e quella delle carabba per fare la multa a Silvia Escort? Seppri avanti c'erano prima. A me non mi sembra un indietro di sosta. Forse giace in fuoco sulle strisce. Ma non mi sembra così. Ammassa quanto sull'iggi. Ammassa quanto sull'attenti alla macchina di Silvia Escort. Hai visto? Ora Stella. Tu dici che era drogato? Loro hanno detto, i poliziotti. No, beh, di gente che cammina completamente nu da veruva, il sabato, l'ottima di sette e mezzo è pieno. No, no. Qualche indizio fa...